Buongiorno a tutti, possiamo iniziare la conferenza stampa. Paisano, Roma Radio. Buongiorno mister. Buongiorno. L'Inter era l'avversario della Roma in quella cavalcata a scudetto del 2010, finita purtroppo, come sappiamo. Volevo chiederle, che effetto le fa tornare a San Siro da allenatore della Roma? Già mi fa effetto essere l'allenatore della Roma. Poi se è San Siro in un altro stadio non mi cambia nulla. Essere tifoso e allenare la tua squadra è qualcosa che ti rende orgoglioso oltre ogni limite. Andare a giocare una partita contro l'Inter, che sta lottando per entrare in Champions League, ma in pratica ci sta molto vicino, per noi è una bella sfida. Paonessa, Roma TV. Eccomi, buongiorno mister. Buongiorno. Inter-Roma può essere la partita decisiva per capire a che punto è il processo di crescita, di guarigione per certi versi di questa squadra? Ma io credo che se ci fosse una battuta d'arresto non cambierebbe il nostro umore. Se ci fosse invece un risultato positivo questo potrebbe darci ancora di più una spinta notevole. Ecco, io la metterei così. Far bene significherebbe molto. Perdere non ci cambierebbe molto la nostra determinazione nel voler arrivare fino alla fine lottando su ogni pallone. Angelo Mangiante, Sky Sport. Buongiorno. Buongiorno. Reduce da qualche problema al ginocchio, Zonzini, infiammazione che adesso è scomparsa. Però le chiedo se in questo momento, a due giorni di fatto dalla partita, il dinamismo, il cambio di passo di Lorenzo Pellegrini accanto a Cristante può dare in questo momento più garanzia? Allora, io sapete ormai che decido sempre la sera prima della partita. Ho visto tutti i ragazzi bene, volitivi, vogliosi, per cui tutte le mie considerazioni saranno messe a punto proprio venerdì sera. Però, insomma, condivido la sua esternazione. Lorenzo ha un passo più rapido, più veloce di Steven. Steven è un punto di riferimento dove la palla la fa giocare con uno o due tocchi, per cui è un giocatore importante per ogni squadra. Volevo riprendere anche il discorso affrontato prima sui trascorsi all'Inter, perché sia lei che Spalletti avete fatto il doppio passaggio, Roma-Inter. E se c'è una differenza, una su tutte, che l'ha colpita tra le due piazze, una differenza? E poi come valuta comunque il lavoro tecnico di Spalletti a Milano? Allora, non valuto mai il lavoro degli altri miei allenatori, li stimo tutti, perché facciamo un lavoro bellissimo ma difficilissimo. Per cui non valuto mai, perché poi i fattori di successo e insuccesso sono veramente, alcune volte, figli di piccoli particolari. Ma le differenze, ogni città, ogni piazza ha le sue differenze e poi dipende anche dal momento storico nel quale tu vai a lavorare su una piazza. Sicuramente Spalletti conosce benissimo Roma e sta conoscendo adesso Milano. Io ho avuto poco tempo per conoscere Milano perché sono arrivato in corsa, sono andato via in corsa. Ho avuto pochi mesi, ho avuto la sfortuna di perdere due giocatori, uno importantissimo, Tiago Motta, e l'altro un giovane di bellissime speranze che era Coutinho, per cui fin quando c'è stato Motta e Coutinho l'Inter si era ripresa. Nel momento in cui Motta è voluta andare al Paris Saint Germain, la squadra non ha più avuto quel punto di riferimento centrale e ci siamo spenti. Biafora, il tempo. Buongiorno mister. Buongiorno. Con l'Udinese ha riproposto la coppia Giacoschic per poi cambiare idea all'intervallo. Sabato sera rivedremo i due centravanti insieme o è un esperimento da mettere da parte? Allora, io non è che ho cambiato idea. Io ho fatto, come vi dico sempre il farmacista, io sapevo che problematiche avevo in squadra. Io sapevo che Daniele non poteva tenere tutta la partita. Allora nella mia mente ho detto se parto con Lorenzo, poi dopo quando lo devo mettere nel posto di Daniele, magari è stanco anche lui. Per questo io sono partito con le due punte. Per cui venerdì sera rifarò tutte le considerazioni sapendo che andremo a giocare contro una squadra che sta in salute, che pressa, che corre, che lotta. Per cui io dovrò mettere i miei giocatori pensando a tutti e 90 i minuti. A prescindere dal modulo che utilizzerà a San Siro, Zaniolo potremmo vederlo anche un po' più accentrato rispetto alle ultime partite? Perché defilato sulla destra è sembrato un po' in calo. Allora io credo che adesso Nicolò non stia nel suo momento migliore. Naturalmente credo, è una mia considerazione in questo mio mese e mezzo, il suo miglior ruolo è da mezzale a tutto campo. Non è neanche dietro la punta. Per cui dietro la punta o sull'esterno per me è un po' la stessa cosa. Il suo ruolo, io credo che la sua conformazione proprio fisica e mentale sia mezzala a tutto campo. In questo momento è un ragazzo di 18-19 anni, poi esploderà e ci farà vedere altre cose. Però in questo momento il ragazzo è più una mezzala che un'ala o un trequartista. Pizzo Ferrato. Maria. Buongiorno, mister. Buongiorno. Lei ha allenato praticamente nelle più prestigiose piazze sia in Italia che in Europa mostrando sempre grande professionalità. Ha compiuto probabilmente la più grossa impresa sportiva del secolo vincendo la Premier con l'Ester. Ma quando parla di Roma e ha quello stemmino sulla tuta, lì brillano gli occhi. Volevo sapere, è molto difficile essere profeti in patria. No, ma io mi trovo bene qui a Roma. Io poi mi brillano gli occhi per due squadre, io sono sincero. Per la Roma e per il Cagliari. Il Cagliari perché io ho iniziato la mia carriera da dilettante. Io ho scalato tutte le categorie, per cui Cagliari mi ha dato la possibilità che dalla Serie C arrivare in Serie A e da lì il trampolino di lancia. Per cui io ho tutte le mie ex nella mia mente, ma due squadre nel cuore e queste sono Roma e Cagliari. Per cui non mi sento né profeta, non profeta. Mi sento un professionista che alcune volte ha avuto delle possibilità di poter lavorare per come sa lavorare e in altre occasioni sono arrivato in momenti storici non positivi. Ma questo non solo a Roma, sto parlando in generale, no? Allora dico, ma forse questo è il mio karma. Perché dove sono andato sono andato sempre in momenti particolari. Ma io sono super soddisfatto della mia carriera che ancora non è finita. Per cui chissà cosa mi aspetterà domani. Guido Dubaldo, Corriere dello Sport. Buongiorno Claudio. Le due vittorie consecutive hanno restituito un po' più di convinzione, di autostima alla squadra. E se in questo periodo, dopo l'inizio un po' incerto, si è riuscito a entrare proprio, come dire, in sintonia con i ragazzi anche dal punto di vista mentale. Beh, certamente questo mese e mezzo ci ha portato ad una conoscenza migliore. Loro sanno come ragiono. Per loro è più facile, devono capire una persona, me. Io ci metto un pochettino di più perché sono tanti. Fortunatamente riesco a capirli. È logico che le due partite ci hanno dato un'autostima importante. Non prendere gol, soffrire per vincerle. Questo ha dato ancora di più convinzione. Per questo ho detto, sì, la partita di San Siro sarà importantissima in fatto di vittoria. In fatto di sconfitta non ci cambierebbe granché perché sappiamo che noi fino in fondo dobbiamo sudare, lottare e far vedere ai nostri tifosi che vogliamo arrivare fino in fondo a testa alta. Vede Sport di Angelis. Buongiorno mister. Buongiorno. Ieri Conte ha detto che per il prossimo anno cerca una società che possa offrire un progetto convincente. Le chiedo, secondo lei la Roma può offrire un progetto convincente all'allenatore del prossimo anno? Ovviamente che sia lei o che sia un'altra persona. Ecco, questo fatto mi è piaciuto molto. Meno male che mi avete messo in mezzo. Ci mancherebbe. Ma questo non sta a me. Questo non sta a me. Io so quello che devo fare io. Io devo cercare di portare la mia squadra il più in alto possibile. Poi non sono io che stabilisco i programmi futuri. Noi allenatori siamo sempre gli ultimi a sapere tutto. Per cui io penso a fare il mio per quest'anno. Ma poi dipende appunto da quello che vorrà fare il presidente, da quello che succederà a fine campionato. Perché lo sapete da sempre che è una cosa arrivare in Champions League e un'altra è non arrivarci. Salve, mi starà parlando di Zaniolo. Le mie considerazioni della sera prima della partita è proprio quanto li vedo bene e quanti possono arrivare ai 90 minuti sicuri. Le mie difficoltà sono queste. Cercare di capire quanti giocatori arrivano ai 90 minuti, quanti giocatori non ce l'hanno. E allora non posso mettere in campo, per esempio, quattro giocatori che non hanno 90 minuti. Perché dopo io posso fare soltanto tre cambi. Chiaro come risposta? Ho detto tutto e non ho detto niente. Come al solito. Ma è la verità, ragazzi miei. Ma che mi devo inventare? Facciamo l'ultima. Carboni, Centrosuono Sport. Mister, eravamo partiti da una Roma che doveva essere giudiziosa. Avete vinto due partite, avete preso morale, affrontato una squadra forte negli ultimi 30 metri in transizione. Le chiedo se la Roma è più sicura della sua costruzione oppure deve stare sempre più giudiziosa, sempre più accorta. Noi dobbiamo essere sempre giudiziosi. A me piace una squadra che gioca all'attacco. Mi piace dare emozioni al tifoso. Ditemi quante squadre iniziano da dietro e arrivano a far gol. Quante volte succede? Tutto qua. Io sono un allenatore pratico. Vedo cosa ho, cosa possono fare al meglio i miei giocatori e non li voglio portare a rischiare. Tutto qua. È una cosa molto semplice. Per cui in questo momento noi dobbiamo essere pratici. Dobbiamo cercare di dare emozioni ai nostri tifosi. Come possiamo dare emozioni ai nostri tifosi? Lottando su ogni palla. Mettendoci il cuore su ogni intervento. E cercare di far capire ai nostri tifosi che noi vogliamo vincere. E' molto semplice la cosa. Più difficile poi farlo sul campo. E allora io devo cercare gli strumenti idonei per far sì che questo accada in campo. Grazie mille a tutti. Buongiorno. Aspettate, fatemi allungare un attimo. Grazie mille. Grazie mille.